Aggiungo una cosa, io ho un problema con il mio gestore telefonico, sabato sono stato un'ora. Hai parlato gli albanesi? No, non sono riuscito a parlare a nessuno, ma fatelo anche voi come esperimento, chiamate e sentirete che alla fine della telefonata, o meglio durante la telefonata vi diranno che l'informazione può essere gestita anche da un call center estero. Sono giudati dalla nuova legge di bilancio? Non è una questione che ti dice che si è spostato il call center, cioè che si sta spostando. Non è una questione di Normandy Price, ti sto dicendo un'altra cosa, ti sto dicendo che questo purtroppo è uno dei frutti negativi della globalizzazione, di cui qualcuno, soprattutto dalla tua parte, è nato così tanto fiero. Il problema è che non si stanno globalizzando i diritti, ma si sta impoverendo il lavoro. Perché? Perché c'è un dumping salariale, sociale, queste sono multinazionali che non guardano all'occupazione, ma guardano al profitto, si spostano laddove hanno maggiore profitto, indipendentemente dal livello sociale ad uterare. Soluzione Trump? La soluzione Trump è una soluzione molto all'antica, che dice che non possono esserci livelli di globalizzazione esasperata come questi. Bisogna che ci siano dei livelli di protezione che tengano conto dell'occupazione. A noi manca e abbiamo bisogno, come il pane, di una politica di sviluppo industriale. Cioè il fatto che ci fossero aziende in Italia, penso alla storica Fiat, che ha preso soldi e oggi non lavora praticamente più nessuno in Italia, ma è tutto spostato all'estero, a sede fiscale, sede amministrativa, sede operativa dove lavora. Queste cose non funzionano. Abbiamo bisogno di una politica industriale. Se la politica industriale vuol dire in questa zona tu ti metti a lavorare, ti sostengo, ma poi qui ci resti e non te ne vai via l'anno dopo, è cosa molto differente da cercare i capitali esteri, come purtroppo Renzi non aveva colto o aveva colto a suo vantaggio, nel dire portiamo qui i capitali esteri, ma se questi non vengono dall'investimento industriale ma sono frutto della finanza, appena hanno finito di fare il loro interesse si spostano.